Potevano contare su un arsenale composto da una pistola calibro 9 Parabellum, due calibro 38, una calibro 22, una 40 e una calibro 7,65, i componenti di un'organizzazione criminale di Gela che trafficava armi e munizioni. Molti di loro sono giovanissimi, poco più che ventenni, qualcuno anche incensurato. La polizia li ha arrestati nella notte, il bliz è stato denominato villaggio Aldisio dall'omonimo quartiere in cui buona parte degli arrestati vive. 11 le ordinanze di custodia cautelare, 9 in carcere, 2 i domiciliari. Tutti sono accusati di associazione a delinquere, detenzione, porto abusivo di armi e munizioni e alcuni dovranno rispondere anche di ricettazione. Gli agenti del commissariato di Gela, guidati dal dirigente Gaetano Cravana e dal commissario Giuseppe Pontecorvo, hanno accertato che i componenti del gruppo erano soliti radunarsi in un bar di via Venezia e ritrovarsi in un podere in contrada Burgio. Nelle campagne avevano dato vita ad un poligono di tiro e lì, nell'agro tra Gela e Malina di Butera, lontani da occhi indiscreti, si allenavano con le armi. Si esercitavano sparando contro bersagli in lamiera. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica. Già nello scorso ottobre, gli agenti individuarono armi, fucili e addirittura un giubbotto antiproiettile nell'abitazione di uno dei componenti della banda. Sulle armi saranno reeffettuate perizie balistiche. La polizia non esclude che possano essere state utilizzate per compiere rapine ed intimidazioni. In manette sono finiti Nunzio di Noto, 23 anni, il cugino Luigi, di 27, Enzo Bruno Manfrè, 24 anni, tutti pregiudicati, ritenuti dagli investigatori i capi dell'organizzazione. Con loro in carcere Aristide Tascone, 26 anni, con precedenti per droga e danneggiamento e altri cinque presunti complici insensurati. Nunzio Esposito, Ferrara, di 24 anni, Ignazio Brivitello, di 27, Alessio Tallarita, di 28, e Zeus Orazio Sola, di 25. Il GIP che ha emesso i provvedimenti restrittivi su richiesta del PM Antonio D'Antonio ha disposto invece gli arresti domiciliari per Orazio Terlati, di 29 anni, ed Ernesto Rocco Privato, di 21.